Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro consueto rassegna di concerti del Vespro, in cui vi presentiamo dei concerti di musicisti italiani e internazionali che hanno la finalità soprattutto di valorizzare il bellissimo strumento che ospitiamo nella nostra Basilica, che è un organo costruito da Pietro Nacchini nel 1758. Vi ringrazio calorosamente per la vostra presenza e un grazie alla comunità monastica, al dottor Aliata che è il presidente della Fondazione Archivo Vittorio Cini, un caro saluto alla BAT Norberto, un caro saluto a voi tutti e al nostro presidente l'avvocato Rubelli che è il presidente dell'associazione Alessandro Marcello che organizza assieme alla comunità monastica questo ciclo di concerti. Sono uno dei nipoti di Vittorio Cini per cui teniamo moltissimo a queste iniziative che uniscono nel segno della cultura e dell'arte l'antica tradizione appunto del monastero benedettino ultramillenaria con quello che è stato il ventesimo e adesso all'inizio del ventunesimo secolo appunto la presenza della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.